Per quanto riguarda le possibilità di contestare la legittimità e quindi l'uso distorto del lavoro accessorio, la strada giudiziale è sempre percorribile perché al di là del mero rispetto del limite economico è pur sempre fermo il principio per cui il giudice è libero di valutare e quindi esprimersi rispetto al rapporto di lavoro che per quanto qualificato lavoro accessorio ha avuto concrete esecuzioni e quindi pur sempre il giudice che dovrà verificare caso per caso e volta per volta se il rapporto di lavoro che c'è stato tra un asserito lavoratore accessorio e il committente ha il carattere della subordinazione oppure meno, questo ha maggior ragione laddove siamo in presenza di attività di carattere continuativo e che sono pienamente coincidenti con quello che è l'oggetto sociale dell'impresa committente e quindi si prestano poco ad essere qualificate come accessori occasionali rispetto a quello che è il core business dell'impresa che si avvale di lavoro accessorio. Grazie.